E' stata una seduta del Consiglio Comunale prenatalizia piena di decisioni importanti per il futuro della città di Alessandria. La maggioranza ha approvato la variante parziale al piano regolatore che autorizza la nascita di un'area destinata alla logistica nella zona industriale di Spinetta Marengo. Altra procedura passata con i voti della maggioranza è stata la vendita di Irene di Alegas del gruppo AMAG che si occupa della vendita del gas, attività separata da quella di distribuzione come previsto dalla legge. Per la distribuzione infatti c'è AMAG Reti Gas. Naturalmente durante il Consiglio Comunale l'opposizione ha contestato la decisione di vendere a Irene Alegas uno degli ultimi gioielli di famiglia. Per la minoranza in Consiglio questa vendita impoverisce il patrimonio della città soprattutto se si tiene conto che altre amministrazioni precedenti anni fa avevano in qualche modo impoverito il patrimonio vendendo altri gioielli come le farmacie comunali. La vendita di Alegas è stata voluta solo per fare cassa sempre secondo la minoranza infatti non c'era bisogno di chiudere l'operazione con così tanta fretta. Proprio in questi giorni il Parlamento ha infatti posticipato il passaggio del commercio del gas al mercato libero al 2024. Di parere opposto l'amministrazione comunale è la maggioranza che ha ritenuto strategico vendere per anticipare il momento in cui sarebbe diventato un obbligo con il rischio di avere offerte di acquisto più basse se si arrivava al momento del prendere o lasciare. Il dibattito sicuramente proseguirà nei prossimi giorni e ogni componente del Consiglio comunale spiegherà meglio la propria posizione.